Allora, con lui è partito in cielo, con Lili, poi Raisa, nostra cara amica, poi ci sono venuto e io, poi stanziato, ok? Io parlo per me, emozionante, qua ho trovato mia moglie, qua ho trovato il mio attore amore e qua ho trovato la mia parrenina. Sono contentissimo. Si, 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 me lo vengo a hacer, me lo vengo a solo dire, vengo a tornare a casa! Eh sì, ricordiamo che il nostro Oscar, che anche noi, nei nostri tempi, fu uno dei primi! Allora Oscar, buona serata! Ok, allora, volevo a solo dire una cosa, ah, siamo rimasti incastrati, volevo fare una frase, l'albero delle radice, allora, aspetta, la pazienza è un albero delle radice amare, ma i suoi frutti sono dolci. ragazzi, abbiamo queste parole, siamo tornati, i cece e chi non c'è, animazione taggata, alba, liberi! E un applauso a voi! Il nostroihara, è un applauso diMaynaесть. Allora, volevo ai tuoi frutti, e quello che viene a tirare, per tracking mi tunte hanno Chia Nicholas di Davies, iki stato pensei che non c'è chi non c'è chi voglia cosa, a invec RAW sixty appJoe sono andvos, io sono le tr impedimenti da Bad hussi paese di più 난anti, Ancciaginthi. Ba Gollulità di Aronmedi, Ma la Humana ha Ну-ту di Cравoche d'Ansh아, yan Li darò che i la panna fino a Chiazza di Amipsi? si Con musica mi torna, me dice che tu eres el rey Perdon, a mi se dice che tu eres pala Cuidado con lo marinero, a mi se te vive De la malattia, a mi se te vive Me dice che tu eres el rey Amorando tu tuve un canto de mi Y tu ya te hace nada, me dice que tu eres pala Si son los marineros, tu sabor Conmigo me batalla Oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti